Gli sfollati delle case dell'Ater di Colle Atterrato questa mattina hanno protestato intanto per chiedere di accelerare la ricostruzione ma anche per dire no alle case messe a disposizione dalla regione Abruzzo. Esatto noi siamo umiliati siamo letteralmente umiliati comunque ci assumiamo noi la responsabilità noi sfollati che non siamo rientrati nelle nostre case la colpa non è della politica la colpa è nostra. Ma voi chiedete dignità avete detto noi chiediamo dignità e rispetto chiediamo non che dopo tre anni ci vengono a raccontare che noi non siamo bambini al contrario che hanno comprato le case momentane e tutto quello che dicono. Perché voi queste case messe a disposizione della regione non le volete non ci volete andare perché se queste case erano comprate subito vicino al terremoto almeno un anno allora potevano essere case provvisorie quelle che stanno facendo adesso ma dopo tre anni per me è una grossissima presa in giro con questa storia che sta facendo delle case non stanno facendo un favore a noi ma forse a qualcun altro io non so chi che sono un povero ignorante non ho studiato sono un zappaterra ma sicuramente qualcuno sta facendo scusami i favori. Ma qui la ricostruzione non è partita per niente non è partita niente vedi le gru quanto tu vedi le gru Dorotea vedi le gru i mondacarico e vieni ti dico Dorotea ecco la ricostruzione qua siamo punto e a capo al primo giorno che siamo stati buttati fuori. Quanti siete sfollati di questa zona di collaterrato? La zona di collaterrato le case popolari questa è un'altra cosa che ho capito ma non ho capito perché si sono rotte le case popolari guarda caso le case dei privati e le cooperative qualcosina ma stanno tutte belle precise tutta apposta nessuno sta fuori o qualcuno. Perché si sono rotte solo ed esclusivamente le case popolari io lo so me lo immagino però per non sbagliare non lo dico perché si sono rotte solo le case dello Stato. Quindi praticamente no a tutto sto tempo tre anni possibile che non hanno fatto niente non si poteva fare niente quindi la politica tutta è stata completamente assente dallo Stato centrale alla regione la più colpevole ritengo io alla politica locale. E' inutile che sterza a destra e sterza a sinistra noi le case non le vogliamo noi vogliamo le case ricostruite quanti soldi stanno spendendo contributi di autonoma sistemazione quelle che stanno dentro gli alberghi comprano gli appartamenti e poi dicono che riaggiustino questi qua alla faccia proprio quanti soldi se ne sta andando per la strada.